La domenica dei derby è passata con la sconfitta di Ravenna a Imola, la sconfitta di Forlì a Bologna, ma il nostro sguardo è già proiettato in avanti ed è non un domani ma un oggi ricco di novità, novità di cui vi daremo assolutamente conto all'interno di questa puntata di Panorama Basket che ovviamente tratterà delle nostre formazioni romagnole sia di Serie 2 che di Serie B, dove si alternano anche lì sorrisi e delusioni, ma tutto questo con tanti ospiti e soprattutto i vostri messaggi e le vostre considerazioni subito dopo la sigla a Panorama Basket. Si chiama A2, è festa grande anche per noi di Panorama Basket. Siamo a Forlì per Billi, Jolly, Billi in maglia roccia, Jolly in maglia blu. Aspettate la sigla e poi lo scopriremo. Ovviamente avremo modo di parlare con voi a lungo durante questa trasmissione. Sei la visione tra facce da dimenticare. Buio in sala, si accendono le luci, va in onda lo spettacolo del basket. Insomma, si accendono le luci. No dai, scherziamo. Siamo un po' più in penombra rispetto al solito, come se ci trovassimo ancora all'Unipol Arena di Casalecchio, dove domenica, anche il sottoscritto, ha assistito al derby tra la Vista e la Palacanese 2.015. Forlì in cui veramente sembrava di essere a teatro, buio in sala, sta per andare in scena, la Madame Butterfly in realtà. Era una partita di basket, ma dopo le mie solite amenità, è giusto il momento di andare alle cose serie, ovvero presentare Francesca. Ciao Francesca, buon'è tornata. Ciao Enrico, ciao e buonasera a tutti voi. Perfetto, un saluto quello di Francesca che stendiamo subito ai nostri ospiti. Eh sì, partendo dal primo ospite che è Ferruccio Tassinari, dirigente e accompagnatore della Palacanestro 2.015 Forlì. Buonasera. Buonasera. E' un saluto al buio. Esatto. A fianco di Ferruccio Tassinari lo ritroviamo ospite a Panorama Basket nella sua veste, che gli è più consona quella del giornalista, dell'opinionista, della persona che di basket sa tutto e di più, e ci dirà di tutto e di più, Stefano Bentroni. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. E a fianco di Stefano, una persona con cui sono abituato a relazionarmi quasi quotidianamente, tra telefonate, messaggi e tutto, che è gentilissimo di essere per la prima volta ospite dei nostri studi, l'ha detto stampa della Piero Manetti Ravenna. Luca Bolognesi. Ciao Luca. Grazie. A seguire, infine, troviamo Andrea Bartolucci alla Pivot Tigers Forlì. Buonasera. Ciao Andrea, grazie di essere nostro ospite. Oh, bene, questa è la nostra platea, Francesca, quindi ci desideriamo tanti messaggi e soprattutto diciamo come dobbiamo e dovete voi essere in contatto con noi. Esatto, potete essere appunto in contatto con noi mandandoci i vostri messaggi WhatsApp al numero 334-7692087, ricordando prima di salvare il nostro numero in rubrica. A seguire vi ricordo anche che dovete, potete ma soprattutto dovete, scaricare l'applicazione di Teleromagna, disponibile gratuitamente sia per Apple che per Android, applicazione la quale vi permetterà di poter seguire tutti i programmi di Teleromagna in diretta, direttamente sul vostro cellulare o sul vostro tablet, ovunque siate. E appunto, Enrico, dicevo che dovete scaricarla, perché? Perché c'è una news, infatti, relativa a questa applicazione. Perché grazie all'app giocate, vero Francesca? Giocate con noi e vi diciamo subito come fare. Partirà alle 21.30, usando ovviamente la app di Teleromagna TR24, andate sul vostro App Store con il vostro telefonino e la scaricate immediatamente. Perché? Perché alle 21.30 partirà il nostro quiz, che permetterà al più lesto, al più bravo, a colui che individuerà la domanda esatta, di vincere un bel pallone da basket da fare poi trovare sotto l'albero il proprio figlio, no? Che potrebbe essere una buona idea, oppure da giocare lui il giorno di Santo Stefano, no, Santo Stefano si gioca al palapiera. Diciamo il 25 dicembre in un playground a tirare a canestro col pallone vinto, grazie a parlare alla basket, non sarebbe male. Come fate? Allora scaricate l'app, troverete sul menu a tendina in alto a sinistra, lo aprite e cliccate su diretta, apparirà la diretta nostra e dalle 21.30 lì sotto un pulsante rosso con su scritto gioca. A quel punto dalle 21.30 alle 22 voi cliccate sopra, dovete rispondere esattamente a una domanda che porta a quattro possibili opzioni di risultato. La domanda ve la diciamo subito, in questo momento in Serie 2 c'è una coppia al vertice, come ci dirà poi Francesca tra pochi istanti, composte da Treviso e Virtus Bologna, una coppia molto nobile per la Serie 2. Ebbene noi vi chiediamo qual è, in che anno per l'ultima volta Bologna e Treviso hanno duellato in una finale per un titolo nazionale importante, voi ci dovete dire in che anno ci fu questa finale. Detto questo, poi dopo se avrete vinto ovviamente il pallone sarà Teleromagna a chiedervi una conferma attraverso l'email della vostra, ovviamente del vostro indirizzo e poi dopo vi segnalerà come, dove e quando ritirare il buono che vi consentirà di accedere ovviamente al pallone offerto da Sport Center. Detto tutto questo è molto più semplice di come l'ho spiegato io, Francesca andiamo a leggere i risultati. Certamente, io intanto torno alla mia postazione così mi metto bella comoda e partiamo con questi risultati. Ma te almeno sei comoda, hai un bello sgabello. Ho un bello sgabello, hai visto? Ma mia schiena, tutte le puntate soffre. Partiamo allora con la nostra classifica, con i nostri risultati prima. Verona Chieti 68-64, Recanati Treviso 61-64, Udine Ferrara 74-64, Roseto Iesi 87-69, Virtus Bologna Forlì 82-68, Piacenza Fortitudo Bologna 68-58, Trieste Mantova 69-67, Imola Ravenna 96-91. Perfetto, allora andiamo a vedere la classifica che ne è derivata. Allora, con 20 punti troviamo Virtus Bologna, a seguire con 18 punti Treviso. Treviso, scusa Francesca, c'è un errore nella grafica, ne ha 20 come Bologna. Ah, perfetto, benissimo, quindi sono sempre 20. Per Roseto siamo a 16, con 14 punti invece troviamo Ravenna, Mantova, Trieste, Fortitudo Bologna, Piacenza, con 10 punti Imola, Iesi, Udine e Verona, con 8 punti Ferrara, Chieti, Forlì e infine Recanati con 2 punti. Perfetto, e poi vediamo anche i risultati della serie B. Eh sì, per la serie B abbiamo l'undicesima e la dodicesima giornata. Per il girone B in particolare abbiamo Raggi Solari Sfaenta, Urania Milano, 79-78, questa giocata giovedì. Per il girone C abbiamo Catanzaro, Tigers Forlì, 103-100, giocata giovedì. Tigers Forlì, Sport e Cultura Patti, 82-56, giocata invece sabato. Per il girone D infine abbiamo Crabs Rimini, Porto Sant'Elpidio, 88-67, giocata giovedì. Lions B sceglie Crabs Rimini, 82-80, giocata invece domenica. Questo esatto con la slide numero 1. E poi passiamo anche alle classifiche dei tre gironi che vedono impegnate le squadre romagnole nel campionato cadetto. Esattamente, con la slide numero 3 andiamo a vedere questi risultati. Per il girone B abbiamo Orzi Nuovi con 20 punti, Piacenza 100, Bergamo con 18 e troviamo Faenza in quinta posizione con 16 punti con una partita in meno. Per il girone C abbiamo con 22 punti Valmontone-Napoli, a seguire con 18 Palestrina e troviamo i Tigers Settimi con 14 punti. Per il girone D infine abbiamo con 22 punti Montregheranaro, con 18 punti Sansevero, Bisceglie, Campli, anche questa con una partita in meno e infine Nona e Rimini con 12 punti. Perfetto, questo è il quadro completo ed è veramente completo del weekend cestistico, anche del turno infrasettimanale che ha visto il giorno di giovedì appunto tutte le formazioni scendere in campo. Ebbene, entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo, prima di tutto... ...corre al mercato e firma, e la firma ferruccia è arrivata proprio in giornata, la guardia ala Davide Reati. Davide Reati, giocatore che aveva iniziato la stagione a Tortona, nella quale anche aveva militato l'anno scorso. Possiamo far vedere anche una slide che abbiamo preparato al riguardo, la slide numero 5. Davide Reati lascia a Tortona e appunto approda a Forlì. Queste sono, quando le vedremo, sono le cifre ovviamente della carriera di Reati. Prima di tutto due cose, Ferruccio, Reati una guardiala dalla mano notoriamente molto calda. Soprattutto dall'arco, in questo momento è un giocatore più in tutto fisicamente pronto. Certo. Perché ha giocato fino a... Ha giocato fino a domenica sport, non ha giocato domenica ma ha sempre giocato. E poi potrebbe, credo sia questa la razio, darvi quello che finora vi sta drammaticamente mancando. Drammaticamente in questo momento... Siamo trentaduesimi nel tiro da tre, considerando i 2-0. Quindi il 32 vuol dire che siamo messi non benissimo. Sì, in realtà quello che è mancato noi oggi, non quello che è mancato. Perché noi pensavamo che non ci mancasse chiaramente nella costruzione della squadra. Quello che è mancato oggi è stato chiaramente il tiro da tre punti. Che spesso l'anno scorso si è dato una mano. Mentre quest'anno purtroppo vedi i guai fisici, vedi forse anche probabilmente il cambio di categoria. Quindi il cambio di modo di giocare ci ha dato abbastanza problemi. Quindi questa scelta è stata fatta proprio per cercare di alleviarci a questo problema. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Credo di sì, crediamo di sì. Il ragazzo è pronto, sia fisicamente che mentalmente. Disposto a sacrificarsi, disposto a venire qua a lottare. Perché come vedi non abbiamo una posizione di classifica delle migliori. E delle migliori quindi lui dovrebbe calarsi immediatamente nei panni. Non di quello che deve salvare la patria. Perché nessuno deve salvare la patria. La patria si salva se si gioca insieme. La patria si salva. Certo, giustissimo che ho dato la riflessione. Te ne chiedo subito un'altra. Immediata, ovvero è un giocatore che verrà tesserato per la partita di domenica a Mantova. Dove ti chiedo se vengono fatte delle riflessioni in merito all'impiego o meno di Wayne Blacksheer. Stando a quello che ha detto Gigi Garelli anche dopo la partita. E poi lo sentiremo nella clip di Bologna. È probabile, come l'interpreto io, che Blacksheer verrà fermato anche in partita non solo in allenamento. Wayne domenica non giocherà. Il pomeriggio abbiamo parlato di non farlo giocare. Per vedere di riuscire a recuperarlo al meglio per la partita del 26. Il 26 comincia le nostre quattro partite chiave. Imola la prima. Trasferta di Chieti, Trasferta di Ferrara, Terbico Ravenna. Poi abbiamo Treviso. Abbiamo Treviso. Quindi in queste sei partite noi ne abbiamo quattro che sono determinanti per noi. È chiaro che Mantova e Treviso probabilmente non sono proprio la nostra portata. Anche se in Treviso abbiamo vinto in casa. Guai a dire però così. Nel senso che fornire i suoi punti salvezza devi cominciare a prendersene anche fuori casa. No, ma non è per dire loro sono bravi e noi siamo scarsi. È che sulla carta in questo momento, io parlo di oggi, in questo momento loro sono più forti di noi. Treviso e Virtus. Scusami, è Mantova come aggichiamo a me. Poi è chiaro che possiamo andare a giocare a Mantova e vincere. Aggichiamo per vincere, non neanche cosa chiamo per partecipare. Non sono le famose partite di transizione che qualcuno si ricorda. No, no, assolutamente. Però i nostri quattro partite fondamentali sono le prossime quattro. È sicuramente così. Stefano ti chiedo subito una tua considerazione su Davide Reati, un giocatore di 28 anni che in serie A2-B tra Treviglio e Verona, anche prima di approdare a Tortona, è stato un giocatore che ha sempre dato un apporto soprattutto dall'arco importante. Cosa si deve aspettare da questo giocatore? Che non è la svolta, però è un giocatore che in questo momento, Perù ce lo potrà confermare, non c'è nessuna partenza prevista. Quindi è un'addizione alla rosa di Gigi Garelli. Cosa secondo te può dare? Ma può dare tiro da fuori, può dare esperienza, può dare capacità di giocare nei momenti caldi della partita, può dare, ripeto, l'abitudine a giocare a questi livelli. Però secondo me può anche togliere. Nel senso che l'arrivo di un giocatore così può, ed è inevitabile che modifino certi equilibri a livello di minutaggio all'interno della squadra. Per cui, secondo me, conoscendo i giocatori, non quelli di Forlì, tutti i giocatori, bisognerà un attimo rivedere il minutaggio dei vari Vico, dei vari Pieric, Bonaccini, Ferri, che inevitabilmente potrebbero trovarsi a giocare un pochino di meno. Mia opinione personale, Reati è un giocatore sicuramente utile, sicuramente pronto, come diceva Ferruccio, però non è il giocatore che ti cambia la stagione. A mio modesto modo di vedere, come diceva Pizzul, si deve intervenire per dei giocatori, ammesso che ci siano, sembra molto facile parlare qui in poltrona comodi, che possano veramente incidere in una squadra. Reati ti dà una mano. Soprattutto a che livello? Dal mio punto di vista fisico, atletico. Insomma, paghiamo un dazio a livello di fisicità notevole. Io dico anche a livello di esperienza, perché secondo me a questa squadra manca un leader. È uno dei tanti problemi, forse il più grosso, che vedo in questa squadra. Reati non lo è. Secondo me Pieric, che ho visto meglio in queste partite, potrebbe quasi esserlo, però secondo me manca questo dopo lì. Assolutamente. È una notazione molto interessante quella che fai tu Stefano. Per chiudere il discorso Reati, provvisoriamente. Poi ovviamente c'è Torneri, intanto vediamo un'intervista fatta non oggi, è un'intervista di qualche settimana fa quando ancora giocava a Tortona. Chiedo però una cosa a Ferruccio. Ovviamente Reati è un over, scusa, un senior per essere corretti. Forlì è dei tre under a referto, ne schierà due pagando la cosiddetta luxury tax. Arriva Reati, si rinuncerà pagando ulteriormente una luxury tax supplettiva al secondo under, Tiamme in questo caso, o Paolini, ma difficilmente credo Paolini, a referto, oppure ci sarà turnover? Tecnicamente domenica il turnover non ci sarà perché Wayne non gioca. È chiaro che dalla partita successiva, nel momento in cui Wayne rientra, ci dovrà essere, esattamente non lo so in questo momento, un turnover o un pagamento di un ulteriore importo. Sarebbero 15 mila euro. 10 mi sembra. No, 8, 15, 25. Ok, allora 15. Questa eventuale. A oggi non ti so dire niente, proprio perché non lo so, non so cosa si è deciso, questo momento non lo so. Comunque sono temi, come avrete avuto modo di capire, già da questo inizio di puntata, tutti molto importanti, tutti molto interessanti, sui quali ovviamente chiediamo anche a voi, da casa, il vostro contributo, in termini di opinioni, in termini di riflessione. Noi però, prima di addentrarci anche su altri temi, altrettanto importanti, come ciò che ha detto il campionato, a Imola, al Palaruggi, nel derby tra Andrea Costa e Ravenna, e in Serie B, con i Tigers, che hanno perso prima Catanzaro, e poi vinto in casa compatti, andiamo a salutare i nostri partner, lo facciamo Francesca, andando da Romagna Auto. Eh sì, infatti Romagna Auto la trovate a Forlì, in via Ravegnana 403, e a Cesena, in via Fogazzaro 119. Romagna Auto da questa stagione, è anche auto ufficiale dell'Uni Euro, e rappresenta per la provincia di Forlì, Cesena, i brand Volvo, Land Rover e Jaguar. I suoi 2000 metri di showroom, sono a vostra disposizione, per vedere e provare tutti i modelli, e tutte le novità, che i suoi marchi propongono. Inoltre, nel suo modernissimo Service Center, trovate tutti i servizi, di cui la vostra auto ha bisogno, come l'officina, come un magazzino ricambi, carrozzeria, verniciatura, e anche centro revisioni. Questa sera, noi vi torniamo a presentare, il nuovo SUV di casa Jaguar, la nuova F-Pace. Ispirata ad F-Type, è un SUV ad alte prestazioni, con il DNA di una sportiva. Dalla forma del cofano, alle pronunciate fiancate posteriori, vanta un design audace, che la distingue, e le regala una presenza, che non passa inosservata. Sotto il cofano, un nuovo motore Ingenium, 2.0 L diesel da 180 cavalli, ma anche il potente, 3.0 diesel 300 cavalli, e il 3.0 benzina, 340 e 380 cavalli. Il modello vanta anche, la nuova trazione integrale, che per ridurre i consumi, e aumentare il piacere di guida, può girare totalmente a posteriore. F-Pace l'ha trovata in 5 allestimenti, 2 sportivi, e 3 con paraurti eleganti, ed interni più classici. Perfetto, grazie Francesco, io credo che vi avrà sollecitato, e solleticato, il palato, ma anche il piedino, con il desiderio di spingere l'acceleratore, allora andiamoci a vedere queste immagini, sempre della F-Pace, che il piedino avrà ancora più prurito, secondo me. Avete mai notato che alcune persone, nella vita, se la cavano sempre? Vediamo la vita, da una prospettiva diversa. Sei in ritardo? Il tempo è un concetto relativo. Vedo che sei riuscito a dominare, la legge di gravità. Siamo i signori del tempo e dello spazio. E guidiamo tutti una Jaguar. Nuova Jaguar F-Pace, vieni a scoprirla in concessionaria. Perfetto, rieccoci in onda, sempre con Panorama Basket, e lasciamo per un attimo la questione Reati e il tema Forlì, su cui torneremo anche con la clip realizzata dalla mia fedele spalla, diciamo così, Darius Ulivi a Bologna domenica, con le parole di Gigi Garelli, che offrono ulteriori spunti di riflessione, e parliamo del derby, del derby che si è giocato domenica al Palaruggi. Anno dopo anno, tra Imola e Ravenna, al Palaruggi, insomma, è battaglia fino all'ultimo respiro. Vince Ravenna l'anno scorso con un canestro di Casini. Quest'anno, invece, si va ai supplementari, Luca, e vince l'Andrea Costa. L'Andrea Costa, che sembra, con Ubalek in rosa, adesso in rotazione, avete trovato una quadratura maggiore, quindi avete avuto come avversario una squadra che sicuramente aveva più fiducia rispetto a quella che ha avuto in inizio stagione. Voi venivate da una bella vittoria contro Verona nel turno infrasettimanale, il supplementare, penso io nella mia testa, l'abbiate pagato anche un po' fisicamente. Sì, sicuramente l'abbiamo pagato anche fisicamente, perché non solo l'infrasettimanale contro Verona, abbiamo giocato quattro partite in 12 giorni, perché avevamo giocato il posticipo martedì, poi abbiamo giocato domenica, poi giovedì l'infrasettimanale e siamo arrivati forse nell'overtime con qualche energia che mancava. Che mancava. Io però... Comunque è stata una partita veramente bella da vedere, emozionante, come quella dell'anno scorso, penso un bello spot per il basket. Vi è mancato qualcosa nei regolamentari, secondo te? No, perché siamo stati bravi a ricucire tutte le volte che loro sono scappati e il pubblico li aiutava, quindi si è riusciti a rimanere attaccati alla partita, poi alla fine nel supplementare c'è mancata quell'attenzione, quell'energia nei rimbalzi e nelle giocate decisive della partita. I rimbalzi sono stati forse una chiave di questa partita perché l'Andrea Costa ha vinto il duello 50-30 con Ranuzzi e Maggioli che hanno presi 12 a testa, rimbalzi offensivi 16 per Imola, 10 per Ravenna con Ranuzzi che questi 12 ne ha presi 6 proprio in attacco, Smita ha fatto reparto da solo, 8 rimbalzi, però diciamo che è stata una delle chiavi di lettura proprio questa, no? Sicuramente Imola ha un grosso vantaggio che con anche l'addizione di Ubalek riesce a giocare sempre con due giocatori che sono 2,5-2,10 sotto canestro con Borra, Ubalek e Maggioli ne ha sempre due in campo e quindi è dura andare a tirare da sotto ed è dura prendere i rimbalzi. Certo i 6 rimbalzi in attacco di Ranuzzi fanno un po' male però c'è da dire che comunque almeno un paio sono arrivati nell'overtime appunto proprio per una disattenzione probabilmente anche mentale di essere un po' al lumicino dell'energia al lumicino dell'energia fra l'altro Maggioli 75% nel tiro da due Maggioli che appare adesso mano a mano trovare la forma giusta era anche inevitabile che partisse un po' diesel per così dire e adesso stia incrementando la lettura però complessiva è un momento di Ravenna secondo te come un po' alterno altalenante rispetto al scintillante inizio di stagione fase di assestamento o no dimmi tu beh penso che sia un po' normale con un roster giovane tante scommesse che soprattutto all'interno delle partite ci siano degli alti e bassi stiamo cercando di migliorare non può sempre succedere come come a Bologna che becchiamo la partita perfetta in cui sono solo alti e mai bassi è chiaro che la costruzione del roster così è stata una scommessa che è stata per ora abbastanza vinta direi però è chiaro che qualche momento buio è da accettare soprattutto considerando che abbiamo avuto l'infortunio di Masciaderi che anche adesso che è ritornato in campo comunque si è visto che non era al meglio e nel reparto lunghi è mancato qualcosa nella rotazione il campo che state vedendo in questo momento in onda sui vostri monitor e non solo se me di servizio lo conosce bene Andrea Bartoluzzi che è giocato con l'Andrea Costa con quella maglia adesso invece sfoggi una ranzone scintillante che però tu speri di ritrovare prima di tutto prima di parlare della partita dei tuoi Tigers speri di indossare non solo la t-shirt e la polo insomma quando è che rindossiamo anche la canotta perché la tua ultima partita è datata a 5 novembre sì spero il prima possibile visto che ho sofferto di un infortunio alla coscia e stiamo facendo di tutto per cercare di rientrare il prima possibile che sarà sbilanciati dai per il 4 gennaio 4 gennaio che vuol dire dopo la sosta natalista che arriverà a seguito del vostro impegno di fine settimana a Viterbo poi il campionato di Serie B al contrario di quello di A2 si ferma vero e riprenderete il 4 gennaio quindi tu e Villani tornate in coppia torneremo in coppia sì perfetto ti chiedo velocemente poi ritorniamo più nel dettagliatamente su questo però durante questa tua assenza hai tanti compagni di squadra giovani Rombaldoni a parte come stai vedendo crescere perché dal punto di vista dei risultati e fatto salvo qualche passaggio a vuoto mentale abbastanza clamoroso come quello di Catanzaro la crescita si vede ma sì all'inizio è stato un po' difficile perché comunque siamo tanto giovani come squadra siamo una squadra che ancora deve rodarsi tra infortuni e destitudini comunque il passaggio a Catanzaro non penso sia stato proprio da buttare via a parte i due punti comunque i ragazzi hanno dato tutto direi che aiutano anche quelle sconfitte lì per il modo anche a capire sì essendo una squadra giovane la fase di maturazione pure essendo una squadra giovane questa cosa aiuta tanto perché comunque a gestire il campo andare eravamo sopra di tanti punti e alla fine abbiamo perso per disattenzioni Compatti è tutto abbastanza liscio no? Sì Compatti hanno fatto una bella prestazione perché arrivare da una sconfitta dopo due supplementari non era facile e i ragazzi è andato tutto e questo si è visto poi in campo con la bella vittoria Eh sì sulle prospettive più generali dei Tigers in questa stagione almeno quelle a medio breve termine ti farò tornare tra un po' è il momento però di andare in pausa pubblicitaria e lo facciamo dunque separandoci solo per pochi istanti a tra poco Rieccoci seconda parte di questo ricchissimo panorama basket come avete visto fin dal nostro primo blocco il ritmo è abbastanza forse nato oggi ma continuerà ad esserlo dicevamo del nuovo acquisto di Forlì Davide Reati e Francesca abbiamo anche la prima foto che lo immortala dopo che ha messo per la prima volta piede al palafiera eccolo qui con il direttore tecnico Geremia Giroldi ufficialmente dunque Davide Reati ha preso possesso dell'impianto forlivese dove lo vedremo per la prima volta il 26 nel derby con Imbola prima come diceva Ferruccio Tassinari giocherà e verrà tesserato per il match di Mantova Davide Reati faceva parte di una squadra che è Tortona direi che la Romagna è un po' provincia di Tortona in questi ultimi anni perché a Tortona ci hanno giocato Davide Reati Paolo Rotondo Jake Rocket Derrick Marks tutti presi da lì tutti allevati per così dire da Demis Cavina che abbiamo in linea ciao Demis ciao ciao buonasera a tutti insomma tu ci sforni i giocatori li fai crescere li porti al fatto ad avere l'interesse delle formazioni romagnole poi ce li cedi insomma un po' forse lo dico con un po' di ironia anche amara sentendola da me ovviamente al tuo orecchio in questo momento no? diciamo che siamo contenti di quello fatto negli ultimi tre anni qua a Tortona di avere diciamo anche lanciato tra virgolette qualche giocatore anche panorami più importanti che è la Lega 2 mi viene in mente Damon Brooks che sta facendo presente molto bene in Germania in A1 insomma sono cose che succedono come nella palacanestra durante la stagione anche nei movimenti però insomma l'importante è che i giocatori crescano e che vengono ben apprezzati vuol dire che il lavoro paga assolutamente prima di chiederti qualcosa ovviamente sulla stretta attualità e quindi su Davide Reatti faccio un passo indietro mentre vediamo le immagini della tua squadra sta facendo un bel campionato Tortona con tanto anche rammarico perché non solo il derby con Casale Monferrato è sfumato per un canestro di Tomasini sulla sirena per così dire ma mi dicevi non è la prima volta che quest'anno proprio nei finali punto a punto potevate raccogliere di più rispetto a quello che avete seminato ma più che altro nell'ultimo periodo venivamo da tanti successi consecutivi purtroppo adesso prendo fuori il fattoletto così comincio a piangere un po' ma no nell'ultimo periodo voi conoscete bene le difficoltà logistiche del Cilone Ovest e nell'ultimo periodo abbiamo giocato sette partite in tre settimane con trasferte toste e giocando ogni tre giorni avendo ovviamente un roster diciamo normale come tutti quanti gli altri che soffre questo tipo di calendari abbiamo perso tante partite mi viene in mente quella di Bielo in televisione ieri al photo finish ma anche altre magari dove eravamo un po' stanchi questo dispiace perché eravamo partiti molto bene sopra ogni più rosa aspettativa adesso stiamo un po' pagando questo però vedo i ragazzi motivati e insomma mi auguro di riprendere il cammino in fretta assolutamente allora Demis però adesso dici qualcosa insomma la partenza di Davide Reati da Tortona a Forlì prima di tutto insomma ti mette adesso un po' in difficoltà perché dovrai coprire la falla e poi ti chiedo anche ovviamente che giocatore i romagnoli in questo caso i supporter forlivesi devono imparare a conoscere ma un giocatore è un leader silenzioso non è certamente un giocatore appariscente però è tecnicamente un leader è un giocatore che ha grandi tiro dalla distanza è un giocatore di striscia è un discreto difensore e qui dico secondo me in questo è migliorato tanto è uno dei due giocatori su cui avevamo basato un po' la costruzione di questa rossa di quest'anno ancora molto giovane però che poggiava su Reati e Garri i nostri due diciamo italiani di esperienza ecco Davide non è certamente un giocatore anziano però è certamente uno che ha fatto prima in Serie B e negli ultimi anni anche in A2 un ottimo percorso è un giocatore anche esperto è un giocatore che onestamente ha fatto la miglior stagione lo scorso anno da noi in A2 intendo dopo due anni di sesto uomo di lusso a Verona l'anno scorso Demis giocava 33 minuti di media in effetti sì lo scorso anno era il giocatore più utilizzato ben oltre i 30 minuti di Marks e di Brooks questo è un po' per dire che per noi e per me è un giocatore fondamentale in questa categoria anche se non è magari appariscente ma è un giocatore che può segnare tanto e se si accende sono dolori per gli avversari da guardi anche dalla piccola ti chiedo un flash su questo come ruolo ma noi lo scorso anno con Derek Marks giocava in entrambi i ruoli a seconda anche degli avversari quest'anno giocava quasi esclusivamente da numero 3 ha anche Stazza per dire mi raccontava anche a Verona che avevano avuto problemi di molti infortuni giocava anche 4 quindi certamente non è a 2 metri però è un giocatore atletico che può anche coprire più ruoli ecco però fondamentalmente lui è una guardia tiratrice certo Demis io non posso che ringraziarti hai fatto un servizio credo a tutti i nostri telespettatori da parte mia ti faccio un grande in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione a Tortona cos'è? il terzo anno se non sbaglio che alleni terzo anno ovviamente un ciclo molto positivo quello che stai vivendo e davvero poi spero di poterti sentire incontrarti presto ovviamente anche in questi studi grazie Demis per adesso grazie Enrico un saluto a tutti ciao grazie ancora insomma questo è un po' l'inquadramento di Davide Reati a parte di chi lo conosce profondamente credo che quello che ci aspettiamo chiaramente assolutamente anche voi vi aspettate detto questo ritorno però a Luca perché Reati come ha detto Demis Cavina giocava con Marx allora cosa ha voluto trovare Ravenna in Marx di un giocatore che mi sembra che rispetto alle cifre che aveva nello scorso a Tortona stia ulteriormente crescendo un giocatore che dal punto di vista del sottoscritto è tanta sostanza forse non spettacolare come lo era De Lodge ma di una sostanza clamorosa è veramente particolare come americano perché non è facile trovare un americano che fa sempre la giocata o quasi sempre comunque cerca sempre di giocare per la squadra e di fare la giocata che serve alla squadra prima di pensare alle sue cifre può capitare anche una sera in cui come l'altra sera con Imola era due punti fino a metà terzo quarto senza problemi senza cominciare a forzare dei tiri perché deve fare dei punti ma lui prende aspetta che la partita arrivi a lui e non va a prendersela che secondo me è una grande qualità per un americano ed è quello che cercavamo in questo gruppo un americano che facesse gruppo perché De Loach fortissimo giocatore spettacolare molto amato dai nostri tifosi e comunque veramente per questa categoria un ottimo giocatore però è un accentatore del gioco un giocatore che ha bisogno sempre della palla in mano per costruirsi il tiro o costruirlo per i compagni però costruisce lui decide lui a che ritmo va la squadra il gioco della squadra invece Marzia è proprio un giocatore di sistema che è quello che ci serviva un giocatore sul quale Francesca ho visto prima durante la pausa scorrevamo i messaggi insieme c'è chi ci chiede se ci fosse stato un fallo se non sbaglio su Derek Marx nella partita con Iguola riguardate le immagini sul fallo clamoroso non segnalato dagli arbitri a 4 secondi dalla fine su Marx da parte di Maggioli clamoroso un saluto da Lorenzo da Ravenna e forza ora si sul tiro del pareggio forse intende io sinceramente in diretta non l'ho notato quindi può essere che vedendo la replay ci sia però se vogliamo essere onesti può darsi che ci fosse il fallo ma se uno va a vedere il replay la rimessa probabilmente io ero lì sotto e probabilmente era di Imola quindi gli arbitri sbagliano per uno o per l'altro sono un fattore come il ferro che può prendere un tiro o non prenderlo magari in altre partite abbiamo subito di più il metro arbitrale non è la singola decisione magari a Trieste abbiamo subito il fatto che fischiassero generalmente poco perché loro hanno questo modo molto energico di giocare però con Imola sicuramente la partita non l'hanno deciso agli arbitri Stefano ti voglio chiedere un commento su Ravenna perché c'è dietro la coppiata Virtus Bologna Treviso c'è una situazione di classifica davvero molto ingarbugliata con tante squadre che possono e poi ne parleremo ancora lottare per il primo traguardo che è quello delle Final 8 di Coppa Italia Ravenna c'è stabilmente in questo lotto da inizio stagione con tante credenziali in modo di vedere Io credo che Ravenna e Roseto siano le due sorprese di questo girone est della Serie A2 Ravenna ha iniziato molto bene adesso ha perso qualche partita ma io credo che allenata bene e costruita bene possa essere una squadra in grado di durare fino a fine del campionato Assolutamente intanto mi hai fatto venire in mente nella tua risposta anzi in realtà mi sono fatto una domanda e mi sono dato la risposta da solo citando Bologna Virtus e Treviso ricordandomi perché è già partito il quiz in cui voi dovete utilizzare la app di TR24 e non Franceschi messaggi Whatsapp perché ci è arrivata una risposta su Whatsapp non è il modo esatto di partecipare al nostro quiz attraverso la app TR24 fino alle 10 dovete dire in che anno si sono sfidate per l'ultima volta Virtus Bologna e Treviso in una finale per un trofeo nazionale trofeo nazionale sono stato indeterminato e questo vuol dire già qualcosa nella possibilità di risposta sono quattro le opzioni le troverete ovviamente nell'app di TR24 il primo che risponde esattamente vince un bel pallone da basket Francesca andiamo con qualche messaggio visto che siamo in tema a tua scelta per le tante sollecitazioni dei nostri ospiti tocchiamo vari temi beh io partirei con il nuovo acquisto della nostra squadra perché qualche messaggino è arrivato purtroppo comprare per comprare non è utile e Reati non è un tiratore da tre che è il punto dolente insieme alla fisicità mancante non è un tiratore da tre mi sembra il contrario questo ragazzo questo ragazzo questo ragazzo lo conosce bene forse non so conosce un altro se non è un omonimo qualcosa fratello ci sono state stagioni di Reati anche col 47% è un tiratore poi possiamo dire che non difende che serviva un lungo possiamo dire qualsiasi cosa lui ha le caratteristiche del realizzatore e del tiratore poi se farà canestro non lo so me lo auguro però lo ha sempre fatto perfetto Francesca ancora c'è chi invece dice fortissimo Reati bella presa spero si confermi tale questo lo scrive John questo lo scrive John al sottoscritto Reati è sempre piaciuto bisogna vedere come si inserisce ovviamente nelle dinamiche di squadra però è un giocatore che il sottoscritto appresta ancora Francesca Reati e Pieric possono aprire le difese avversarie c'è chi ipotizza questa cosa questo di sicuro su Pieric ti chiedo è un giocatore che adesso possiamo considerare recuperato fino a che punto non completamente non completamente perché comunque la condizione fisica è comunque ancora lascia desiderare perché un giocatore come lui di 35 anni che sta fermo alla fine 40 giorni prima per una cosa e poi per un'altra chiaramente lui è un leader lui è un leader perché è un giocatore di esperienza è stato preso per dare esperienza a questo gruppo dove di esperienza non ce n'era tanta in questa categoria ma purtroppo non ha potuto metterla in campo assolutamente speriamo adesso che questo avvenga perfetto un altro ancora Francesco sempre inerente a questo discorso ma come si è preso un giocatore senza sapere se si vuole fare turnover o pagare la luxury tax difficile da credere Stefano bisogna considerare Stefano omonimo anche le dinamiche del mercato quest'anno è un mercato abbastanza blindato ovvero una mossa una fino al 23 gennaio dopo c'è la possibilità dal 24 in poi di fare anche tre mosse ovviamente con reati Forlì in questo momento fa questa e fino al 24 non può più muovere sulla scacchiera però è anche vero che le occasioni quando ci sono vanno colte al volo Forlì aveva inutile negarlo tentato anche la pista Busciati si parlava di lunghi si è parlato di metreveli ma per il discorso dei bat Caserta non lo può liberare tanti giocatori di Serie A che non giocano però restano come parente a Torino come Passera come Bruttini a Brescia insomma è difficile in questo mercato agire quindi quando c'è un'occasione bisogna prendere al volo al mio modo di vedere sì però ripeto quello che ho detto prima l'occasione non so se reati fosse un'occasione ok e poi secondo me anche se sette sconfitte sulle ultime otto non sono una bella non sono un bel vedere però il campionato è lungo Forlì a ben vedere ha due punti in meno rispetto a quello che erano le previsioni calma calma se si recupera Pieric se su Blackshear si prenderà una decisione speriamo che lui possa guarire e possa tornare ad essere il giocatore importante che è ci si allena si fa gruppo se è compatti non c'è bisogno di andare a cercare chissà cosa calma e sangue freddo senza mosse avventate o comunque frettolose non farsi prendere dal timore dal panico va bene perdi con Imola perdi con Chieti non sei retrocesso c'è un intero girone di ritorno calma calma assolutamente questa è una chiamiamola lezione perché è giusto che sia così ma ne parleremo anche dopo quando toccheremo un altro testo un po' delicato che è quello dell'allenatore prima però a proposito di calma anche per lui calma bravo dillo anche per lui assolutamente Garelli insomma è al centro dell'attenzione anche mediatica in questi giorni come non è invece Antimo Martino perché lì bello tranquillo però Antimo Martino secondo me Luca in questo momento slide numero 7 un pensierino a salire qualche gradino e vedere di poter tentare la scalata alle final eight ce lo sta facendo ce lo sta facendo anche la società abbiamo tre partite Ravenna giocherà due in casa Roseto e Chieti e poi a Mantua l'ultima del giorno d'andata sono sei squadre che lottano fondamentalmente per due posti dando quasi per certo che Virtus Bologna e Treviso faranno le final eight sei squadre per due posti e qui abbiamo il calendario di tutte insomma Ravenna a fine di tutto mi dicevi anche off the records che non era proprio un obiettivo prefissato ma siete in ballo assolutamente non ci aspettiamo non ce lo aspettavamo prima e non ce lo aspettiamo neanche adesso noi viviamo partita dopo partita cercando di migliorare di giocare sempre al meglio e poi se dovesse arrivare la CUP Italia sarebbe una grandissima soddisfazione come lo è stato vincere una partita che non ci aspettavamo di vincere e chiaramente se non avessimo perso o la partita con Trieste o la partita con Imola che sono tutte e due state partite che si potevano vincere o si potevano perdere sono andate erano un po' lancio di una moneta se non ne avessimo perso una delle due saremmo seriamente in corsa secondo me con la trasferta di Manto vado a giocare non ti possono bastare quattro punti? non ho fatti i conti non abbiamo fatti i conti anche perché proprio non ci pensiamo non è il nostro pensiero se arriverà saremo molto contenti però non è il nostro pensiero lo chiedo come flash ad Andrea a Stefano a Ferruzzo ditemi le due squadre che secondo voi potrebbero prendere questi due posti secondo te Ferruzzo e Andrea? è difficile da dire perché comunque sono tutte squadre lì vicino che se la giocano posso dire Rosetto due punti avanti Fortitudo Piacenza Mantova Trieste e Ravenna agli stessi punti beh Rosetto per quello che sta facendo secondo me è la favorita Stefano? Rosetto non ha un bel calendario la Fortitudo è dentro sarà dentro sicuramente Trieste Fortitudo Trieste Ravenna Mantova Ferruzzo? Sì ti dico Trieste mi sembra quella che abbia un calendario più agevole buoni calendari di Fortitudo e Trieste Sì sono i calendari più agevoli quindi credo che abbiano qualche possibilità in più Rifletteteci anche voi casomai diteci anche la vostra mentre andiamo a salutare altri nostri amici e lo facciamo ovviamente andando da Romagna Fiere Esattamente Romagna Fiere infatti ci dice che si è conclusa con la Fiera del Riuso una lunga e ricca stagione di eventi che per tutto il 2016 ha reso appunto la nostra Fiera di Forlì un vero e proprio punto di riferimento per chi voleva conoscere e apprezzare la buona tavola e il buon vino le migliori soluzioni per il vivere sano e in armonia la bellezza dei nostri amici animali la qualità e la bellezza della moda artigianale senza tempo e infine il fascino della grande arte sono stati questi infatti i cardini su cui Romagna Fiere ha offerto un servizio importante alla nostra città e a proposito di questo diamo anche qualche dato oltre 20 anni di attività con un calendario di ben 18 manifestazioni che hanno coperto anche territori lontani da Forlì come ad esempio Parma, Modena, Rimini e Gabicce attraendo pensate oltre 2500 espositori qualificati e più di 150 mila visitatori ogni anno questo è il grandioso biglietto da visita della società forlivese e al tempo stesso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere quest'anno 2016 un anno davvero importante però l'impegno di Romagna Fiere continuerà anche nel 2017 con tantissime altre proposte a partire dalla quindicesima edizione di Saper che ci sarà dal 23 al 25 gennaio però per restare sempre informati su tutti gli eventi della nostra fiera andate a consultare sempre il sito www.romagnafiere.it e soprattutto da qui potrete anche scaricare tutti i coupon per poter entrare a prezzo ridotto sempre benissimo grazie Francesca e andiamo a salutare dopo Romagna Fiere anche gli amici di GM Infissi benvenuti in GM oltre 60 anni di esperienza nel settore Infissi GM serramenti in legno legno alluminio acciaio PVC ad alto risparmio energetico un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica per il comfort acustico per la sicurezza 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza ora siamo presenti anche a Cesena nel nuovo showroom presso Rotonda Secante www.gm.net benissimo rieccoci qui con Panorama Basket e come dicevamo anche poc'anzi con Ferruccio Tassinari non si parla solo di reati in questo momento a Forlì si parla tanto tantissimo anche di Gigi Garelli Gigi Garelli che non ha in questo momento un feeling positivo col pubblico ed uso un eufemismo un Gigi Garelli che abbiamo sentito grazie ad Eris Olivi anche dopo la partita di Bologna andiamo a sentire una prima parte delle sue dichiarazioni Devo commentare ahimè una partita che non è nata per noi non è nemmeno nata ma purtroppo le considerazioni in questo momento sono abbastanza ovvie e evidenti noi in questo momento abbiamo una serie di problemi che tra l'altro di nemmeno facile soluzione alcuni dei quali purtroppo sono dei problemi fisici che ci portiamo dietro e della quale fine non si vede purtroppo non si vede la luce in fondo al tunnel mi riferisco soprattutto a Black Shear che è un rompicapo di cui non riusciamo proprio a da cui non riusciamo ad uscire e dovremo prendere una decisione credo insomma in tempi non troppo lontani su cosa fare se fermarlo perché in queste condizioni non allenandosi e poi giocando senza allenamenti il risultato è quello che abbiamo visto stasera e non è per colpa sua ha un problema e quindi dobbiamo essere più bravi noi nel gestirlo in maniera diversa o probabilmente nel prendere altri tipi di decisioni questo poi è una cosa che considereremo al nostro interno noi in questo momento siamo questi e dobbiamo considerare che siamo questi e dobbiamo essere bravi a capire che la nostra salvezza passa attraverso un'unione di intenti attraverso tutte le componenti che ci sono quindi dopo ognuno nella vita è libero a fare quello che vuole però contestazioni fischi non servono oggettivamente perché abbiamo una serie di ragazzi che non si tirano indietro il problema è che abbiamo A dei limiti B dei problemi quando cominci a mettere dei limiti insieme a dei problemi purtroppo le cose stanno a questo punto quindi se abbiamo una via d'uscita è quella di stare compatti di provare abbiamo detto più riprese che compatibilmente con quelle che sono le risorse poche e le prospettive di mercato proveremo anche a fare qualcosa per vedere di mettere qualche miglioramento alla squadra però ripeto l'unica possibilità che abbiamo di poter migliorare le cose di uscire è quello di stare compatti tutti quanti quindi parlo di squadra di ambiente di pubblico eccetera ovviamente mi riferisco a tutti al netto di quei 3 barra 5 imbecilli che mi augurano ogni volta dopo la parita in casa di morire e succederà prima o poi perché come diceva Truisi in quel famoso film Momo lo segno ecco tutto molto interessante quello che ha detto Gigi Garelli tutto che sollecita parecchie discussioni le faremo dopo la pubblicità ma prima secondo me Francesca c'è un messaggio da parte di un nostro telespettatore che racchiude un po' diciamo tante domande in una e che ti prego subito di leggere esattamente ed è Fabrizio Fabrizio scrive al momento attuale il problema di Forlì è l'allenatore grazie per quello che ha fatto anno scorso ma quest'anno la situazione gli è sfuggita di mano pochi schemi poche rotazioni e molti errori tante uscite spropositate fuori luogo molti alibi e molte polemiche il fatto di essere socio oltre che allenatore non deve essere un alibi qualsiasi altra squadra avrebbe già esonerato l'allenatore con questo rendimento e queste esternazioni spropositate questa è diciamo la domanda grazie Francesca che secondo me posta in maniera anche argomentata ci permetterà con i nostri ospiti di parlare tra pochissimi istanti subito dopo la pubblicità benissimo eccoci qui terza parte di Panorama Basket mentre Ferruccio Tassinari Stefano Benzoni ancora soprattutto loro direi ma anche Andrea vuole sentire la tua riflessione rimuginano sulle risposte da dare sul caso Garelli vi devo informare che continua il nostro concorso per votare l'MV Panorama purtroppo oggi mia colpa non abbiamo la slide vi posso però aggiornare sul podio al momento per l'MVP del mese di dicembre primo è Marx in testa della classifica non vi dico i punti perché insomma così avete tutti più stimoli ad andare a votare la prossima settimana secondo Perin dei Raggi Solaris Faenza terzo un altro giocatore di Faenza ovvero Donadoni Francesca questo concorso che insomma a me piace moltissimo ma soprattutto piace chi ce lo offre esattamente e chi ce lo offre sono i nostri amici Marco Evito Marco Evito che è la macelleria gastronomia che trovate a Forlì in via Carossa 58A dove poter andare ad acquistare tutte le migliori carni di qualità ma soprattutto anche le eccellenze del nostro territorio come ad esempio vini formaggi e pane fresco perfetto grazie Francesca allora torniamo a Garelli le sue frasi dopo Bologna le avete sentite dal mio punto di vista quella che un po' fa più scalpore è il riferimento un po' post datato ai fatti di giovedì tu quei fatti di giovedì li hai vissuti molto bene ecco cos'è successo? ma niente è successo che il problema qui non parte da giovedì il problema il problema parte dall'anno scorso ragazzi il problema poi Gigi ha il suo carattere bello, brutto giusto, non giusto ci sono un gruppo di persone che sono 20 30 quelle che sono che d'anno scorso continuano a lamentarsi a offendere ma non voglio difendere Gigi sto raccontando una cosa sto raccontando l'anno scorso si sentivano benissimo perché io sono seduto di fianco a Gigi c'era poca gente meno gente quindi meno rumore l'anno scorso abbiamo vinto 42 parti su 47 e questi 20 l'avrebbero esonerato dopo la sconfitta in casa con Piacenza probabilmente sono cose o personali o perché uno non ti piace se non hai detto che abbiamo forse a piacerci tutti assolutamente quindi partiamo siamo partiti un po' indietro quest'anno chiaramente siamo partiti benissimo tre vittorie su quattro partite la foto finisce ma ha vinto bene cioè ha giocato bene è bello e tutto così poi qualcosa si è rotto Wayne che è il nostro è il nostro giocatore principale ha accusato questi problemi al ginocchio quindi il suo rendimento è calato le percentuali sono calate e tutto e sono partite le sconfitte sono partite chiaro che Gigi non si deve non deve comportarsi come l'altra sera questo è fuori dubbio credo che lo sappia anche lui benissimo che le cose non vanno affrontate in quel modo lì e dopo tutto è anche vero Ferruccio che mi sembra che un principio di tensione forse prematuro si è scattato anche prima di Iesi ad esempio dopo la sconfitta di Roseto e a quel momento mi sembrava decisamente prematuro sì è prematuro è prematuro anche oggi questa contestazione mirata verso Gigi credo sia prematura che il campionato è lungo perché le squadre dal 24 di giugno scusate di gennaio potrebbero cambiare radicalmente per mille motivi adesso uno prima ha scritto avete preso reati non serve a niente può darsi noi speriamo di no l'abbiamo preso perché serve se dovevi prendere un lume no c'era Busciati no c'era Bruttini non c'era prima cosa un giocatore non è che dice io vado via devo avere il permesso dalla società per andare via e devo avere un certo tipo di situazione reati è buono perché l'hanno lasciato andare via perché spesso un giocatore chiede di andare via di cambiare aria tu mi anticipi messaggi però comunque sto facendo un ragionamento a 360 gradi un ragionamento ci sono mille situazioni ci sono noi crediamo è chiaro che si è parte di Busciati Busciati è un giocatore che gioca comunque una squadra di A1 loro l'A1 tra l'altro hanno l'obbligo che tengono perché hanno anche l'obbligo di avere cinque giocatori italiani sotto contratto Bruttini poteva andare via è andato via cittadini che ha lo stesso procuratore di Dalmasson quindi è andato magari dove meglio pensava di andare meglio quindi le situazioni sono varie il mercato bisogna comprare e cambiare la squadra ne puoi prenderne uno quindi non cambi ne prendi uno tu sei bravissimo però a svicolare hai preso la strada e poi hai preso la curva che ti ha portato dall'altra parte ti fermo un attimo chiedo a Stefano i due aspetti del problema secondo me che in questo momento riguardano Gisegarelli sono da scindere c'è un aspetto del problema che riguarda il rapporto Garelli ambiente però c'è l'aspetto del problema dato dei risultati e dato forse e te lo chiedo da un possibile problema Garelli spogliatoio secondo te c'è secondo te le due cose invece possono tra virgolette interconnettersi e dunque andare un po' a così a mischiarsi in una con l'altra creando un problema oggettivo ritengo che Garelli abbia delle colpe ma abbia anche motivi per essere difeso i motivi per essere difeso sono facili l'infortunio di due giocatori di due giocatori importanti come Pieric e come Blackshear e mettiamoci anche Vico in questo stagione perché ha dovuto e mettiamoci anche Vico poi possiamo andare a vedere il perché di questi infortuni la preparazione è stata fatta bene non è stata fatta bene perché ci sono infortuni e infortuni allenare una squadra in queste condizioni non è facile perché lo sanno tutti è una banalità ma bisogna ricordarla le partite si costruiscono durante 5 i 6 giorni di allenamento se non ci si allena bene se ne mancano due poi tre poi uno c'è poi uno però si fa poco è difficile è molto ma molto difficile questi sono i motivi che portano ovviamente ad avere la difesa che ci sta di Gesi Garelli però che colpe ha in questo momento Garelli? secondo me ha la colpa di comunicare nervosismo alla squadra non so posso permettermi di essere d'accordo lo dico anche come opinione personale hai focalizzato quello che penso anche io non riesco a capire perché sia così teso sia così nervoso la conseguenza di questa tensione di questo nervosismo sono dei gesti eclatanti e francamente sbagliati l'episodio di giovedì è uno ricordo quello quando per un errore di un giocatore ha dato quattro calci ad una sedia lo vedono 3.000 persone ma sì ma non c'è bisogno poi ha il suo carattere può piacere può non piacere sono gesti che secondo me sono sinonimo di un nervosismo di un nervosismo che non so da cosa possa essere dato perché la squadra ripeto ha due punti in meno non ha una vinta e 15 perse ti mandano via gli insulti ma stiamo ad attaccarci agli insulti di quelli che ti insultano quando hai vinto 42 partite su 47 cioè perché secondo te Ferruzzo non riesce a staccarsi mentalmente da questo rapporto anche così viscerale che ha col pubblico ma guarda ti dico io conosco Gigi dal 90 quindi forse sono quelli che come tempo lo conosce da più tempo di tutti quest'anno in realtà lui si è difficile dare una spiegazione a quello che è successo perché comunque sia l'anno scorso ha fatto tutto l'anno scorso ha veramente gestito una squadra completamente perché in realtà erano poche le persone quest'anno ha staccato si è staccato un po' da tutta l'organizzazione che l'anno scorso comunque aveva sulle spalle quindi doveva essere un po' più alleggerito un po' più agevole questa situazione in realtà in realtà la mancanza dei risultati comunque e le brutte figure che sono causate probabilmente lo hanno molto destabilizzato dal punto di vista di certe cose che comunque ha scelto lui certe sicurezze che forse aveva assolutamente di certe sicurezze che sicuramente con un errore anche di sopravvalutazione forse sopravvalutazione probabilmente non siamo qui a fare dei processi a nessuno però può anche essere che sia stata qualche sopravvalutazione di qualcuno esatto poi ci saranno i messaggi chiedo su un flash a Stefano Stefano con esperienza ovviamente giornalistica però ricordiamolo anche dirigenziale secondo te rischia in questo momento Garelli con le prossime partite detto come va detto non dovesse andare bene non solo a Mato ma anche a Imola eventualmente a Chieti è un allenatore che rischia? allora io ripeto quello che dico da anni secondo me un allenatore va esonerato in due circostanze a è un palese incapace un palese incapace cioè fa errori marchiani facili ed evidenti oppure lo spogliatoio cioè i giocatori perché alla fine ricordiamoci che dipende tutto da loro non lo seguono più questo io non lo posso sapere non mi sembra perché Forlì è una squadra che ha molti anzi che ha troppi alti e bassi avesse solo bassi uno potrebbe dire probabilmente giocano contro probabilmente non non va non va bene qualcosa ma qui ci sono dei momenti in cui la squadra gioca bene difende è concreta degli altri in cui smette di giocare o non inizia a giocare come a Bologna o non inizia a giocare come a Trieste una partita inspiegabile onestamente poi però a Bologna una squadra che benissimo c'è la pressione dei tifosi che giocano contro Bologna ma anche le altre partite dopo non c'è stata la squadra che l'ha data su assolutamente a parte la partita di Domenica che è stata abbastanza imbarazzante però mi sembra che non ci siano in questo momento vista da fuori intendiamo le cose le sanno quelli che frequentano lo spogliatoio quotidianamente noi parliamo e facciamo delle chiacchiere più o meno giuste secondo me non sarebbe giusto esonerarlo però bisogna che si calmi che stia tranquillo assolutamente condivido prescindiamo dal discorso Palacanese 2.015 Andrea e nessuno vuole la sua morte questa è una frase francamente esagerata che secondo me è anche questo sinonimo di nervosismo eccessivo assolutamente prescindiamo Andrea dal caso Palacanese 2.015 le dinamiche di spogliatoio di cui parlava Stefano Benzoni nel rapporto con l'anatore e nel rendimento di una squadra credo siano insomma quelle che fanno veramente la differenza in base all'esperienza che tu hai di tanti campi di tanti allenatori di tante situazioni secondo me sono fondamentali per portare avanti un progetto o una squadra che punta a vincere partite perché comunque la serenità nello spogliatoio è la cosa fondamentale che serve per poi affrontare la settimana e la stagione quanti allenatori ti è capitato che nella tua carriera non dirmi quali me li dici in camera caritate non te lo dico che alla fine non avevano più la presa sulla squadra in cui giocava ma sinceramente pochi perché comunque è anche una sconfitta del giocatore arrivare a esonerare un allenatore perché vuol dire che prima bisogna farsi un esame di coscienza personale e poi di squadra perché è una sconfitta per tutti molto giusto quello che dici e di Lorenzo con voi che tipo di rapporto ha al di là del fattore tecnico diciamo ma Dilo è super perché è una persona che sta in mezzo a noi scherza con noi ride sempre sereno da positività e quindi penso sia avere un allenatore che ti dà calma e sicurezza è fondamentale Andrea calma e sicurezza secondo te fino a arrivare a quali obiettivi per questi Tigers te lo chiedo con la slide numero 4 che abbiamo preparato anche qui guardando la situazione alla fine del giorno d'andata non potrete andare alle final eight il distacco forse è abbastanza ampio anzi final four solo la prima di ogni giro e quindi però slide numero 4 con il calendario dei Tigers ma anche delle squadre che precedono che sono Cassino che hanno gli stessi punti vostri poi Barcellona e Luis Roma io decco che quarto posto non è impossibile e sarebbe un bel quarto posto al termine del giorno d'andata sì sarebbe un sogno perché comunque eravamo partiti con un obiettivo salvezza che poi piano piano secondo me possiamo arrivare abbiamo perso all'inizio qualche partita che potevamo vincere tipo Roma e la stessa Cassino perché l'abbiamo buttata via anche quella ma adesso comunque siamo un bel gruppo uniti che possiamo puntare ad arrivare sicuramente nelle prime quattro infatti io vedo Viterbo poi Stella Azzurra Roma e l'ultima forse proibitiva Palestrina però insomma adesso potete arrivare quindi tutta Palestrina con l'organica al completo che sarebbe già qualcosa di importante e poi pronte a giocare con nuove consapevolezze interiori Viterbo si ha vinto due partite però è un campo difficile perché comunque sono anche loro una squadra giovane che mettono sempre tutto il campo con un ragazzo esperto come Marcante che ha giocato tanti anni in altissimi livelli e poi sì al fine arrivare a Palestrina che comunque sono una bella squadra organizzata per puntare a vincere decisamente c'è anche Pedersini che l'anno scorso giocava a Forlì quindi una squadra molto tosta una buona squadra assolutamente a proposito vediamo quali sono le partite della tredicesima giornata in tutta la serie B grazie alla slide numero 2 le possiamo approfittare in questo momento per leggerle leggerle scusatemi partiamo dal girone B dove c'è uno scontro al vertice quello tra Lecco e Faenza entrambi a 16 punti si gioca domenica si gioca sempre domenica Stella Azzura Viterbo Tigers Forlì a cui faceva accenno adesso il nostro Andrea Bartolucci girone D invece Krebs e Rimini tornano in casa con Ortona anche in questo caso si gioca a Flaminio domenica Krebs che hanno perso di due l'ultima partita tante scoffite al photo finish per Rimini che però in casa ha già fatto scalpi illustri con Ortona potrebbe tornare a vincere in casa e quindi provare anche lei a mettersi diciamo in proiezione playoff Andrea due paroline sulle romagnole che non affronti però Faenza mi sembra che stia facendo un ottimo campionato Rimini tanti giovani anche lei deve trovare la sua dimensione in questa stagione si Faenza è una buona squadra con tante gente esperta anche giovani buoni mentre Rimini è una sorpresa perché comunque è una squadra giovanissima costruita per una salvezza tranquilla credo e stanno facendo molto bene assolutamente sì come state facendo bene e più voi in questo momento noi andiamo a salutare altri nostri partner Francesca lo facciamo assaporando a quest'ora dei profumi che arrivano dalle cucine quelle del Don Abbondio no? eh già dopo mi fai venire fame però se dici così lo sai perché a quest'ora è ora che viene un po' famuccia esatto parlavamo dei nostri amici dell'Osteria Don Abbondio che trovate a Forlì in piazza Guido da Montefeltro 16 a lato dei musei San Domenico pensate che i nostri amici dell'Osteria Don Abbondio sono gli unici eredi dell'antica Osteria della Trippa e l'unica e vera Osteria ancora presente nel centro storico dal 2001 Simone Zoli infatti ha trasformato l'Osteria in un locale davvero unico perché accogliente con un'atmosfera calda ma informale ma soprattutto forte di una cucina capace di innovare pur rimanendo rispettosa della tradizione basato ovviamente su vini di prima scelta ma anche sulla trippa che nel menù trovate sempre assieme ai presidi slow food alle carni dell'aia e ai migliori prodotti stagionali prodotti stagionali quali ricordiamo sempre che Don Abbondio coltiva con tanta cura nel proprio orto qui infatti ogni giorno si raccolgono frutta e verdura fresca da servire direttamente a tavola Don Abbondio vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena eccetto il lunedì e la domenica sera perfetto grazie grazie Francesca ti faccio giusto prendere fiato qualche istante perché devi tornare immediatamente a parlarci di altri nostri amici ovvero di MC Antifurti eh sì MC Antifurto ovvero la chiave per la vostra sicurezza i sistemi di MC infatti proteggono la vostra abitazione con moderni sistemi dotati di tecnologie all'avanguardia che permetteranno di poter controllare e tenere lontani malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra questo è perché è possibile grazie alla tecnologia che MC vi fornisce infatti in qualunque parte del mondo voi vi troviate potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ed esso relativo direttamente sullo smartphone attraverso una comodissima applicazione che vi permetterà anche di accendere e spegnere l'antifurto gestire le luci in giardino e vedere anche l'immagine delle telecamere sia in diretta che registrate potete quindi uscire di casa tranquilli ma soprattutto dormire in tranquillità perché a voi infatti ci pensano tutte queste meravigliose soluzioni studiate ad hoc dai tecnici specializzati di MC potete richiedere un preventivo gratuito fissando un appuntamento allo 0543 725395 o visitando anche il sito www.mcsistemi.it o la pagina facebook vi ricordo infine che MC lo trovate in via Balzella 41G a Forlì ottimo Francesca grazie grazie di averci portato dentro MC antifurti e noi prima di una bella carrellata di messaggi che adesso andremo a lanciare Luca con la slide numero 8 parliamo delle partite che riguardano anche la Serie 2 del fine settimana Forlì l'abbiamo già detto gioca a Mantova e qui vediamo anche i pericoli di Natale per così dire in cui abbiamo messo il nostro focus sui giocatori in questo momento più in condizione delle sfidanti di Forlì Imola e Ravenna con tra parentesi anche come stanno crescendo le loro cifre vediamo ad esempio Ferruccio Corbett e Daniels che in questo momento stanno prendendo veramente per mano Mantova che le reduce da 7 vittorie consecutive prime dall'ultima sconfitta domenica scorsa Piacenza con cui giocherà Imola Bobby Jones e Esbruck prima di chiederti della tua Ravenna Luca è questa forse la coppia di Staniere migliore della Serie 2 o forse Umè mentre secondo me Kenny Esbruck è assolutamente la guardia americana una delle migliori del campionato sicuramente perché è un giocatore che come Marx riesce a stare all'interno di un sistema difensore fenomenale e in attacco abbiamo visto anche il tiro che ha messo per vincere la Ferrara quindi giocatore d'esperienza Esbruck è assolutamente temibile Bobby Jones contro di noi è stato praticamente annullato nella partita di Ravenna che comunque abbiamo perso però è sicuramente un giocatore di categoria superiore noi ci troviamo ad affrontare Adam Smith Adam Smith capo cannoniere però attenzione se la regia può rimandare alla slide numeri leggermente in cambio di Adam Smith tocca i ferri esatto nella sedia è partito che era sopra 30 di media nelle prime partite è stato giocatore del mese ad ottobre cercheremo di trovare un modo per limitarlo alla fine anche l'anno scorso Rosetto aveva preso Allen che era un altro americano sì veramente un ottimo realizzatore ma noi nella partita di Ravenna siamo riusciti nonostante fece mi pare oltre 25 con l'overtime fu limitato in maniera decente Rosa molto lunga comunque quella di Rosetto sarà lo scontro anche tra i due pivot undersize del campionato sì assolutamente speriamo che il nostro Smith col suo atletismo cosa deve fare Ravenna per vincere detto proprio un soldone secondo te in questa partita giocare la nostra partita ai nostri ritmi senza cercando di limitare al massimo le pause cioè i momenti di buco mentale che ovviamente con una squadra così giovane ci possono essere e trovare l'energia superiore a loro anche dal pubblico perché sappiamo che Rosetto in casa è una squadra molto temibile per il pubblico fuori casa cerchiamo di sfruttare anche il nostro fattore campo che comincia a farsi sentire veramente anche a Imola si è fatto sentire assolutamente grazie Luca messaggi Francesca dai partiamo da un bel messaggione che ci scrive Moreno credo che a Forlì chi segue il basket sia allo stesso modo coach giocatore e direttore sportivo capendoci poco detto questo e non è poco la squadra ha dei limiti soprattutto sotto canestro se poi non segni o segni poco difficilmente vinci Reati può dare una mano ma sarebbe potuto arrivare pure gentile e le cose non sarebbero andate bene comunque il tifoso forlivese spesso è il vero limite della squadra ma non lo so se arriva a gentile quindi tutto cambiano le cose il forlivese è il limite della squadra adesso non passiamo da un estremo all'altro non cerchiamo di non esagerare poi nelle affermazioni il pubblico forlivese è un pubblico importante è un pubblico caldo un pubblico che segue che tifa è un pubblico che vive molto sul fatto di quello che ha visto trent'anni fa perché qui tutti dicono ma forlì è passato meccadù e forlì è passato griffin sono passati trent'anni fa poi sono stati dieci anni o quindici di niente sì diciamo anche questo parametriamo anche questo assolutamente però mi fai venire in mente con questa tua risposta ecco la domanda anche un quesito per Stefano Benzoni che era molto diretto vero Francesca? quanto è difficile fare basket a forlì? quanto è difficile ma non è non è difficile chiaramente il pubblico è vero in parte è abituato quando eravamo in A e anche allora comunque c'erano quelli che non andava mai bene perché quello non capisce niente e quell'altro ti ricordi bene esatto quindi indubbiamente quando prende di mira un giocatore questo giocatore o ha grande personalità per non dire delle cose rotonde oppure si tende a non perdonare a condizionare questo a me è stato detto in varie circostanze giocare a forlì può essere la cosa più bella del campionato ma può anche essere la cosa più difficile ti è successo con Elia Antonio ti è successo nel finale di quella stagione anche con Cro sono case abbastanza emblemate ma a parte Cro ma Elia Antonio quando un giocatore sente che quando riceve la palla tutti cominciano a dire o ha una personalità notevole o se no è difficile che segni devi fare come Andrea Bartolucci prende e tira da tre e segna no Andrea però è difficile no? no è difficilissimo giocare quando hai un ambiente contro però forlì anche una piazza che si scalda basta un tuffo per terra e si scalda attenzione non sono gli insulti è la presa in giro perché l'insulto in trasferta un giocatore un giocatore lo sopporta meglio che la presa in giro di quella adesso tira vediamo cosa fa questo cretino non è facile non è facile velocemente ancora qualche messaggio Francesca per Ferruccio al netto degli infortuni perché in certe partite non c'è grinta c'è modo e modo di perdere vi chiedo proprio flash in queste risposte sì purtroppo ti arrivano addosso dei tigre come è successo a Bologna o come è successo a Trieste e dopo non è per niente facile riprendersi anche se ti butti per te ti sbuccio le ginocchia ancora Francesca si può avere un giudizio di Bartolucci su Rombaldoni sembra che quest'anno si diverta in campo a Rombaldoni non si discute come giocatore come persona perché è eccezionale sia in campo che in spogliatoio quindi penso poi è bello attivo insomma palla in mano crea realizza mi sembra sì sì Romban si sa cosa sa fare e per chi non lo conosce fuori dal campo è eccezionale perfetto l'ultimo messaggio Francesca poi siamo purtroppo veramente in chiusura Ferruccio più cupo per l'unieuro per il derby della mole eh queste rossi che scrive sono sicuro sì più cupo per l'unieuro più cupo per l'unieuro esatto poi chiedevano a me qualcosa sulle formule Francesca sì chiedevano come funzionano i play out in A2 e i play off in B allora play off in B formula la stessa prime 8 di ogni girone vanno in play off play out in A2 allora l'ultima di ogni girone retrocede direttamente penultima e terz'ultima dei due gironi fanno i play out incrociati tra girone ovest e girone est e ne scende una e ne scende una ecco esatto giusto questo che stai dicendo quindi è terz'ultima contro penultima è incrociato e poi dopo ne scende una sola questo ovviamente l'obiettivo è evitare il terz'ultimo posto e arrivare il quarto ultimo per Forlì per Ravenna Luca vedere di consolidare questa presenza nelle parti alte della classifica così come per i Tigers detto questo ho parlato di tutti tranne anche di Stefano Benzoni che lo salutiamo però con tanto affetto prima di tutto però grazie a te Ferruccio Tassinale esattamente grazie anche a Stefano Benzoni per essere stato qui con noi grazie a voi grazie a Luca Bolognesi che ritroverò telefonicamente per la prossima puntata pre-natalizia e poi e poi grazie anche ad Andrea Bartolucci grazie mille per essere stato qua grazie a voi dicevamo puntata pre-natalizia Francesca perché noi martedì prossimo ci siamo ancora martedì 20 siamo in onda sempre sul canale 14 di Teleromagna ci faremo gli auguri di Natale esatto ci faremo assolutamente gli auguri di Natale salteremo soltanto la puntata di martedì 27 dicembre per poi ritrovarci facendoci gli auguri di buon anno il 3 gennaio sempre qui però martedì prossimo in onda a che ora? dove? alle 21 su Teleromagna mi raccomando seguiteci grazie a tutti voi si chiama A2 e festa grande anche per noi di Panorama Basket Tutto si muove non riesco a stare fermo tremando ti cerco in tutti i canali alta tensione ma senza orientamento oggi è una grande giornata è una grande giornata di basket per un record da vinta noi vi diciamo solo che Panorama Basket sicuramente tornerà perché siete stati fedelissimi bravissimi grandissimi grazie 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 e grazie grazie a tutti